Siamo al volley, Calzedonia cambia coach e si affida a Rado Stoicev, la notizia era nell'aria da tempo ma adesso è arrivata l'ufficialità. Lo ha comunicato il club attraverso il suo sito confermando la firma sul contratto che legherà il coach bulgaro a Calzedonia per le prossime tre stagioni sportive. Contestualmente è stato risolto consensualmente il rapporto professionale con Nicola Grbic, il presidente Stefano Magrini e tutto il club. Ringraziano Nicola Grbic per l'ottimo lavoro svolto, si legge nel comunicato e gli augurano le migliori fortune per il proprio futuro professionale, un classico di questo genere di note di commiato.